Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, bentornati sul canale se siete di ritorno e invece benvenuti se siete nuovi. Per chi non mi conoscesse, io sono Martina, sono 7 anni che sono nel settore e oggi sono qui con un nuovo video sul backtesting. In realtà non è propriamente un video sul backtesting, sarà un video effettivamente molto breve, o almeno ci provo, dove andremo a vedere come modificare il file sul backtesting, quello che vi ho fatto vedere nel video principale appunto del backtesting che vi faccio passare qua sopra e andatelo a vedere se ancora non l'avete fatto. E appunto come modificare il file a seconda delle vostre richieste ed esigenze. Voglio creare una rubrica nel senso che ogni volta che mi viene chiesto qualcosa andrò a creare un video apposito su queste domande. In particolar modo la volta scorsa mi è stato chiesto come andare ad aggiungere la casella al filtro durata del trade, quindi oggi sono qui per due cose. Uno, farvi vedere come si fa in modo che possiate aggiungerlo voi sul vostro stesso file e imparare a farlo. E due, darvi un nuovo file con il filtro già inserito. Chiaramente adesso vi farò vedere appunto come fare sul file che vi ho fatto vedere la scorsa volta, ma attenzione se volete il file con il filtro appunto già inserito dovete scaricare il nuovo file qua sotto. Non andrò a modificare quello precedente perché altrimenti chi se lo scarica da quel video chiaramente non capirà. In alternativa, se non volete scaricarlo e rifare le cose da nuovo, potete seguire step by step quello che vi faccio vedere in questo video per andare a modificare il file già esistente. Quindi ragazzi, qualsiasi richiesta, domanda che avete, aggiunte che volete fare, fatemele sapere qua sotto o ovunque vi vada di contattarmi. Io cercherò di soddisfarvi tutti, ovviamente nei limiti di ciò che sono in grado di fare, questa volta è stato abbastanza semplice, però magari ci sono delle cose che possono essere un po' più complicate, ma non importa, mi piace mettermi alla prova. Quindi mi raccomando, qualsiasi cosa fatemelo sapere così andrò a creare nuovi video e andrò ad avere una playlist qua su YouTube interamente dedicata al bad testing e alla gestione del file, la modifica, le aggiunte, i filtri, tutte queste cose qua che tanto ci piacciono. Detto questo, ci spostiamo sul grafico e andiamo a vedere come aggiungere il filtro durata del trade. Eccoci qua! Allora, questo qua è il file che avete scaricato dallo scorso video sul backtesting, quindi vediamo appunto che abbiamo la data d'entrata, l'ora d'entrata, la data di uscita e l'ora di uscita. Quello che mi è stato chiesto è di andare a fare il calcolo della durata del trade, quindi andare a calcolare su questi dati inseriti quella che è la durata del trade. Quindi da questo punto qui arrivare a, vedete, questo punto qui con appunto la nostra durata. Ora, se volete potete direttamente scaricarvi questo file qua che ho chiamato filebacktesting1.1 perché è tipo un aggiornamento ma non è che abbia chissà che cosa in più, si tratta di una piccola formuletta, direttamente da qua sotto. Se però volete vedere come fare appunto a modificarlo da voi in modo che capiate appunto come si può fare a fare una cosa del genere magari sul vostro file, io vi faccio vedere come ho fatto direttamente su questo file, che è quello vecchio. Poi andrò a cancellare le modifiche perché non vorrei confondere chi dovesse scaricarlo vedendo appunto il video precedente. Voi comunque potete appunto scaricarvi direttamente lui da questo video qua, perché significa che chiaramente avrete visto il video. Allora, prima di tutto che cosa facciamo? Andiamo a cambiare il nome di data entrata e lo chiamerei data e ora entrata. Poi voi potete chiamarlo come volete, io sono pure, ok, un po' impedita a scrivere visto che ho il microfono davanti alla tastiera. E che cosa facciamo? Ci posizioniamo appunto sulla prima casella, andiamo in formato numero e lo facciamo diventare data ora. Quindi adesso è soltanto data, noi lo facciamo diventare data ora. Quindi vedete che oltre appunto alla data viene fuori anche l'orario. Andiamo poi manualmente a mettere le tre, ok, perché purtroppo non riesco a trasportarlo. Poi ci sono sicuramente dei modi per farlo, io per semplicità qua vado a farvi vedere passo per passo senza complicare troppo le cose. Lo dobbiamo fare di tutti quanti dati che abbiamo già inserito, quindi data ora, anche qui, perfetto. Qua andiamo a mettere 11 e 45, stessa cosa facciamo qui, formato numero, data ora e andiamo a mettere 17 e 15. Perfetto, a questo punto possiamo cancellare la colonna dell'ora d'entrata, che non ci serve più, e facciamo esattamente la stessa cosa qui, quindi data e ora uscita. Anche qua andiamo a trasformare le nostre caselle in data e ora, quindi formato, numero, data ora. Vedete che anche qui diventa come prima, quindi 9 e 45. Stessa cosa, la facciamo sotto, purtroppo non mi posso tirare direttamente la casella perché andrà a prendermi questi dati qua, quindi devo appunto farmi manualmente questi dati che ho già inserito. Ok, mi posiziono su quella sotto, numero, data ora, ok, mettiamo le 3. E infine l'ultimo, formato, numero, data ora e andiamo a mettere 20 e 45. Ok, a questo punto, importante, andiamo a posizionarci sulla cella subito vuota sotto e andiamo a trasformare anche lei data ora, poi facciamo un copia e incolla, le selezioniamo e ce le trasciniamo fino all'ultima cella appunto disegnata, in modo che siano già tutte formattate per andare ad inserire data e ora. Quindi quando vado a scrivere 20.01.2021, ok, poi mi vado a inserire direttamente 13.15.00 e abbiamo già il nostro format di data ora. Ok, a questo punto l'ora di uscita, invece che andare a cancellare la casella, la facciamo diventare durata trade. Durata trade. Ok, cancelliamo ciò che c'è all'interno, mi posiziono anche qui sulla cella, vado in formato, numero e questa la faccio diventare durata, ok? Anche qui mi tiro giù tutto fino al fondo, perfetto. Che cosa faccio adesso? Andrò a scrivere uguale la mia casella finale, quindi dell'orario di uscita, meno la casella dell'ora iniziale, dell'entrata nel trade. Ok, a questo punto viene fuori 6 ore e 45, possiamo anche dare la compilazione automatica, diamogliela, altrimenti prendiamo e ci tiriamo giù tutta quanta la colonna. E vedete che va a calcolare in automatico la durata del trade, quindi il primo trade è durato 6 ore e 45, gli ultimi sono i secondi, in questo caso non ci interessano più di tanto, però magari per chi va a mettere l'orario preciso con i secondi, magari chi fa scalping può diventare utile. Io sinceramente non sono neanche precisa col minuto, quindi va bene così. Questo secondo trade vediamo che ci dura 39 ore e 15 minuti, perché va dal 2 di agosto fino al 4 di agosto e il terzo 3 ore e 30 minuti, dal 30 di agosto fino al 30 di agosto dalle 17.15 alle 20.45. Perfetto, a questo punto abbiamo la nostra casella di durata trade. Però, altra cosa, penso che possa essere interessante andare nei risultati ad aggiungere la media della durata dai trade, perché è importante sapere se abbiamo la casella di quanto durano i nostri trade, andare a fare una media di quanto durano i nostri trade. Come fare? Andiamo a prendere la equity, ce la spostiamo un pelo più giù e andiamo a prendere pure lui, ce la spostiamo giù. Non vado a mettere delle caselle intermedie perché poi si sballano un po' di dati, quindi preferisco andare a spostare tutto. Poi prendiamo media stop loss, facciamo un copia e incolla, ok? Media stop loss lo cancelliamo, lo facciamo diventare durata media trade, ok? Qua cancelliamo e che cosa facciamo? Andiamo di nuovo sulla cella, formato, numero, durata, anche qui. Ok, a questo punto andiamo a mettergli la formula, quindi uguale, media, aperta parentesi, tra F7, vedete che è qua la nostra cella, F7, ed F127, che è l'ultima cella nostra. Ok, ci viene fuori che la durata media è di 24 minuti e 33. Capiamo subito che non è possibile, i nostri trade durano 7 ore, 40 ore e 3 ore, come è possibile 24 minuti? Questo perché lui sta andando a fare la media di tutta quanta la colonna, compresi anche 0000. E quindi chiaramente il dato è sballato. Quindi per essere più precisi, e io vi ho fatto vedere appositamente questo passaggio, perché so che potrà servirvi anche per altri dati, sarà importante andare a dire a Google, guarda che però mi devi fare la media soltanto se effettivamente c'è un tempo. Se è 0, non me la fare la media. Come fare? Allora, andiamo a cliccare sulla nostra casella, uguale media, andiamo a fare un punto se, quindi mi devi fare la media solo se, tra F7 ed F127, punto e virgola, il valore è maggiore di 0. A questo punto stiamo dicendo a Google, oh Google, fammi la media della colonna F, tra F7 ed F127, ma soltanto se il risultato, ciò che c'è nella cella è maggiore di 0. Invio, e a questo punto abbiamo il risultato corretto, 16 ore e 30. Quindi la media tra 6 ore e 45, 39 e 3 diventa di 16 ore. Andiamo a mettere che abbiamo un trade che ci dura 24 ore, scusatemi giustamente, lui mi dice no, non puoi farlo, devi mettere direttamente, devi mettermi qua i dati, quindi diciamo dal 38 2021 fino al 31 8, 31 8 2021, 24 ore precise, vedete che la nostra media sale a 18 ore, ok? E quindi a questo punto abbiamo tutto quanto fatto, la nostra casella della durata del trade e la nostra media di durata del trade. Spero ragazzi che sia chiaro, spero anche di avervi dato qualche chicca in più per chi non sapesse effettivamente come muoversi tra le formule di Google. Ho cercato di mantenere anche questo video molto semplice, senza andare a fare troppa formattazione condizionale, andare a mettere troppe formule se, andare a mettere riempimento, cioè ho cercato di tenerlo semplice, anche perché poi anche volendolo fare più complesso, se poi chi prova a riprodurlo si perde una casella, è la fine, quindi vi tengo molto molto basici. Come detto, qua vi ho fatto vedere il procedimento per aggiungerlo sul vostro file, ma se non ci avete sbatti e volete il file già fatto, qua lo trovate appunto già fatto e scaricabile qua sotto appunto nei vari link. Io con questo ragazzi vi saluto, per qualsiasi dubbio o domanda fatemelo sapere qua sotto, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto, un commento, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina delle notifiche. Come detto vorrei far sì che questo diventasse un format adottato sul canale, dove andiamo a mettere insieme le formule appunto che mi chiedete nei vari file, che poi in questo caso sono file di backtesting, ma ragazzi potete usarlo anche come trading journal, non c'è assolutamente nessun problema, nessuno vede come lo usate, poi alla fine si può usare appunto in qualsiasi modo si voglia. Quindi qualsiasi richiesta qua sotto nei commenti che andiamo a vederla insieme nelle prossime settimane. Detto questo noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video.